C'è la copertura presa RacingBanker per Ishikawa! Il muro del Releone Thomas Beretta! Gioco spostato per la via, murato da Beretta. La difesa di Petri, c'è la via, murato in campo da Beretta. Corre Soji per Bottolo, come Beretta dire no! Rodartic, murato da Beretta! Giuseppe Toracic, questa volta il rete è saltato a sangue sui grossi Danov. Al centro il muro su Quadroscenin che riporta Monza più 6, 15-9. Corre Soji per la via, murato da Beretta. Corre Soji per la via, murato da Beretta. Giuseppe Toracic, murato da Beretta. Corre Soji per la via, murato da Beretta. Corre Soji per la via, murato da Beretta.